Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferenica! E io sono Steph! E questo è il video che è Magli Andere Simulator! E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno, che per oggi sono Davide, Naiko921, Kubu Lamonte, Giulia The Gamer, Two Faces Crew e Darkmaster57! Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione! E siamo tornati su Yandere prontissimi a provare nuovamente delle cose folli! Sai che questa volta sono soprattutto proposte da loro? Ah sì? In effetti li ho lette nei commenti e sono favolose! Sono davvero favolose! Sì, ci hanno proposto delle cose da provare davvero fighissime e non vedo l'ora di iniziare perché sono curiosa di vedere cosa succederà! La prima, subito, sai qual è? Ok! Ci hanno detto di ridere, quindi usare il tasto della risata, però con i capelli da Saiyan! Io non ho idea di che cosa potrà succedere! Oddio! Sono curiosissimo, proviamolo immediatamente! Io credo che invece che ridere farà Super Saiyan se così io impazzisco! Dici? Vado? Vai! No, aspetta! Hai sbagliato tasto! Vai, 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 vai! Di più, di più! È cattivissima Yandere! È cattivissima! Spacca la faccia a tutti! Andiamo a spaccare la faccia a tutti con questa potenza incredibile! Bellissima! È carinissima questa cosa! Non lo sapevo! Bellissima! Io lo... Sai che pensavo che le azioni si potessero fare solo quando usi le mod? Anche io, anche io! Quindi quando trasformi totalmente il personaggio! Non credo... Non avevo la minima idea che avessero effetto anche solo cambiando i capelli! Quindi sono contentissima! La seconda cosa che andremo a provare è davvero geniale! Vi ricordate quando abbiamo ammazzato Cocona con i pesetti che le sono cascati in testa? E chi se lo dimentica! In quel momento, la professoressa di ginnastica... Hai presente che le era andata vicino per vedere cosa è successo? Sì, sì, mi ricordo! E ha chiamato la polizia? Assolutamente! Ecco, ci hanno scritto che se noi riusciamo a prendere i pesetti che sono lì in zona senza farci beccare dalla professoressa... Ok! E torniamo sul tetto! Possiamo far cadere i pesetti e ammazzare la professoressa! Ma questo è difficilissimo da fare! È difficilissimo ma ci voglio assolutamente provare! Se ci riusciamo, questo ragazzi è davvero epico! Siamo pronti! Abbiamo la bacinella con i pesetti! Stiamo aspettando che Cocona esca! Sarà difficile! Sarà difficile riuscire a prendere i pesetti senza farci notare! Anche perché, secondo te, può bastare un solo pesetto messo di nuovo nella bacinella per ammazzare? O bisogna per forza metterli tutti e cinque? Sai che ho un'idea! Mi stavo facendo la stessa domanda perché ho pensato, quando li stavi prendendo adesso, che comunque metterli tutti è una cosa davvero lunga! Ci vuole un po' di tempo, quindi puoi ristalire su e ributtarli! Ok, ok, ok! Non è semplice, secondo me, ma ci possiamo provare! Possiamo fare tanto... Che coincidenza! Mi tremano di nuovo le mani? Mi sta cadendo? No! Di nuovo! Guarda queste coincidenze che non si possono spiegare! Ok, guarda! Vedi, lei adesso va qua, ok? Ok! E si mette sul corpo! Secondo te vanno ripresi tutti? Io per sicurezza li riprenderei tutti! Sì, ma secondo me ci becca! Abbiamo cinque minuti... Allora, prendi la bacinella e spostala! La puoi prendere? No! Come facciamo? Io volevo fare le cose di nascosto e per questo... No, non le puoi fare! Muoviti, muoviti! Allora, uno e lo allontaniamo! Ok, veloce, veloce! Lo posizioniamo così! Ti stai emozionando troppo! Mi sto spaventando tantissimo! Cioè ci becca di brutto, eh, sappilo! Vai, vai! Vado? Vai! Ok! L'insegnante è ancora lì, controlla bene? Controlla bene? Sì! Vai! Non posso! Non posso farlo cadere! Vedi che non ho il tasto? Posso farlo scivolare? L'abbiamo mancata! Non è successo niente! No! Non si può fare! Terza cosa da provare! Passiamo subito alla prossima! Ok! Ci hanno chiesto di provare a bruciare qualche altra ragazza per vedere se si possono bruciare altre persone al di fuori di Cocona! Ok! È venuto anche a me questo dubbio, se devo essere sincero, mi è incuriosito un pochettino! Allora, secondo me sì! Si possono bruciare anche altre persone, tu che dici? Anche secondo me, però il dubbio c'è, quindi voglio provare! Hai già pensato a qualcuno in particolare da bruciare? No, la scegliamo sul momento! In base alle sensazioni che è in corpo! Sì, la prendiamo solo con Cocona! Alla fine vediamo un po' quella che ci sta più antipatica, proviamo a bruciarla! Direi che è la cosa migliore! Chi scegliamo? Chi scegliamo? Allora, io sai che ammazzerei tantissimo quella sotto l'albero di ciliegio, ma penso che non si possa fare perché anche lei secondo me è intoccabile! Esatto! Allora, questa volta un ragazzo proviamo! Ok! Che ne dici? Che ne dici? Che ne dici? Facciamo questo coi capelli verdi? Sì, mi dà fastidio! Non so perché mi dà fastidio! Anche a me non piace il colore dei suoi capelli! Non ha funzionato! Quindi non si può ammazzare nessun altro! Oggi un sacco di delusioni! Io speravo si potesse bruciare qualche altra ragazza e soprattutto qualche ragazzo! Perché non si possono bruciare i ragazzi? Scusa, ma solo la povera Cocona! Allora, prima di fare l'ultima cosa ragazzi che sarà davvero difficile da provare, voglio fare una cosa più semplice, soprattutto che va proprio sul sicuro al 100% perché è una cosa che hanno aggiunto con una nuova patch, ovvero una nuova arma! E sai qual è? Lascia! Esattamente! Io non vedo l'ora di prendere l'ascia che ovviamente nel club di giardinaggio... Come sempre! Io non so perché hanno benzina, asce, armi di tutti i tipi, sembra una cosa di contrabbando piuttosto che un club di giardinaggio, sinceramente! Quella che bella! Oh, questa fa male! Vedi con questa io dico che qualche ragazza la possiamo far fuori, guarda! Qui poi che altro c'era? Perché sto guardando per curiosità, c'è giusto questa qua per tagliare, sì, 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 sì! Ah, ok! Con questa si fanno cose brutte, ce l'hanno anche chiesto, ma voglio lasciarlo per un altro episodio perché si tratta del club dell'occulto, dovremo fare qualcosa... Il prossimo episodio lo dedichiamo al club dell'occulto! Pono, pono, pono! No, no, ci sta notando! È certo che ti note più grande della nostra testa, questa asce enorme! La dobbiamo andare alle spalle! Pono, pono, pono! Ho deciso di ammazzare lì perché è sempre sola soletta! Sì, anche a me dà fastidio, sempre qua! Io mi aspetto un'animazione davvero cattivissima! Sei pronta? Io non ho idea di come sarà, non ho visto nulla! Oh mio Dio! No, 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 no! Non è successo nulla, tranquilla! È cattivissimo, non hai visto, sembra un vichingo! Sembra un vichingo, è cattivissima! Ok, ok, guarda la sua faccia in questo momento! Sta iniziando ad avere i tic dalla pazia, hai visto? Esatto! Scusa, ti stai gorendo il sole, sei seduta qua tutta tranquilla, ma muori, va! Ok, tu hai detto che era l'ultima cosa! Esatto, esatto! Ma in realtà ce n'è una speciale che non ti ho detto! Allora, non so minimamente se potrà funzionare Come tutte le cose di oggi Esatto, ma ci hanno scritto Ma il bello è provarle, il bello è provarle Esatto, il bello è quello Ci hanno scritto che in questa modalità qua Cyber mod Cyber mod Cyber mod, non riesco a dirlo Cyber mod, semplice, veloce Cyber mod Ok Grazie Sia la possibilità di rapire la professoressa Non siamo riusciti a ucciderla Ma almeno la rapiamo, mi stai dicendo questo? Forse sì, perché guarda Di fatto noi ci possiamo parlare Quindi noi le chiediamo il favore di seguirci Di seguirci, ovviamente La portiamo in un bel magazzino E facciamo Qualche stanza nascosta E la facciamo svenire, proprio così Esatto, riesce a seguirci quando corriamo velocissimi Eh, brava, vabbè Eh sì, va bene Insegna ginnastica Voi non sappia correre, scusa Su, veloce, veloce Eh, però è lentina, bisogna dirlo E noi siamo dei cyborg Certo che siamo molto più veloci Allora, la stanza dovrebbe essere tutto avanti Tipo a destra Ok Super nascosta, super segreta Se ci riusciamo a questa cosa È l'insegnante che ci dà anche il retta Vestiti in questo modo Che ci segue, capito In una stanza nascosta Magari pensa che sia tipo qualcosa di cosplay Qualcosa per una fiera scolastica Dici che le piacciono i cosplay, capito Tra vestimenti Sì, non mi ricordo più dove è la stanza Non vorrei dire Ti sei perso Ti sei perso Continui a seguirci, signorina Allora, devi chiudere la porta Allora, devi chiudere la porta, giusto? No, 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 perché? Vieni Oddio, oddio Ok, si era flippata Deve entrare qui dentro Insegnante Camminando, con calma Non entra Sì, entra, entra Ok Adesso noi dobbiamo chiudere Chiudere la porta La porta Ok A questo punto Tiriamo fuori la nostra silinga E pam Vedi, sta dormendo Infatti ha tutte le zeta carinissime Adesso ne la possiamo mettere qua Ok, guarda Credo, sì Ok, la possiamo mettere qui dentro Diciamo che la stiamo nascondendo La custodiamo Sì, sì, sì No, diciamo che ci ha fatto arrabbiare Perché non siamo riusciti a farla fuori Quei pesetti Almeno la facciamo addormentare La chiudiamo in una scatola Penso che sia una bella vendetta Esattamente E adesso noi tornando a casa Dovrebbe funzionare Ok Io ho qualche dubbio Forse Cosa succede tornando a casa così? Non ti capisco Che dovremmo avere nel semiterrato La professoressa in automatico Dici? Non lo so perché Io non ho mai rapito una persona Però se Sembra anche serio Dicendo che non ho mai rapito una persona Ma che ci fa? Che ci fa? A quanto pare la professoressa Era un po' travestita È lei È lei È un po' diversa Lo so Ma non è lei Eh ho Fai finta che sia lei Mi sta confondendo questa cosa Ti dico che mi sta confondendo La torturiamo per 18 ore Almeno Scusa Ci dispiace Guarda la faccia scioccata poverina Però già che ci siamo Cosa dobbiamo fare? Poverina guardala Pazienza È scioccatissima In ogni caso ci fermiamo così Ovviamente nei commenti potete proporci altre cose Che siano bug Cose da provare Qualsiasi cosa Perché noi tanto ci divertiamo a provare tutto Anche se non funziona Anche se non funziona Meglia se funziona però E vabbè dai Se poi non funziona Non ci si può fare nulla Almeno ci si prova E vediamo come va Comunque Prima di finire il video Andiamo subito a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Choose spooky for me Milena Giovanni Webb Nicolas Laura Yei E Giulia e Sofì Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video mi piace così Se vi è piaciuto lasciateci un like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao